Una delle poche palme che è riuscita a salvarsi dal flagello del punto loro rossa ragusa è tenuta in condizione di poco discutibili e quanto afferma la consigliere d'insieme Elisa Marino che punta il riflettore su piazza del popolo e sullo stato in cui versano gli alberi ormai ridotti dice davvero in pochi è presente nel sito. Sembra che non ci sia la minima cura continua la consigliere d'insieme nei confronti della palma in questione che infatti libera i propri frutti sul marciapiede sottostante diventati in poco tempo a dir poco indecoroso. La Marino quindi oltre a chiedere all'amministrazione comunale una maggiore pulitura accurata della zona si chiede anche perché non si provvede ad una cura più adeguata verso quelle piante del quartiere che risultano essere parecchio sofferenti. Il verde pubblico sottolinea l'esponente di opposizione ha bisogno di essere gestito con grande attenzione per cui capiamo le difficoltà di carattere comuni del comune ma la trascuratezza non ha motivo di esistere.